buongiorno a tutti allora volevo fare un breve video di nuovo su questa nuova panda sul suo design quindi qui vediamo quella nuova e qui ho sovrapposto quella vecchia perché nella comunicazione della fiat dicono essersi ispirati alla panda originale allora non ho tenuto conto delle differenze di dimensioni ovviamente la panda la prima adesso ricordo esattamente le dimensioni ma era almeno 50 60 centimetri più corta quindi le ho rimesse più o meno con le stesse dimensioni per vedere le proporzioni allora qui vediamo il principale problema che avevo già evocato nell'altro video nel precedente video è che il parabrezza è molto troppo inclinato e quindi effettivamente c'è questo stesso stile molto squadrato intanto possiamo dire che quella originale che ha uno stile molto squadrata ma è estremamente proporzionata adesso non saprei dire esattamente la regola delle proporzioni ma insomma lo vediamo istintivamente all'occhio le proporzioni fra il l'altezza la lunghezza il volume del cofano motore il volume dell'abitacolo l'inclinazione delle linee vedete come sembra tutto molto omogeneo e tutto tutto richiama l'insieme e tutto è molto proporzionato invece e quindi questa cosa che dicevo che il parabrezza qui su quella panda originale è molto più dritto e quasi 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 la stessa inclinazione del dell'unotto posteriore invece nella in questa nuova panda possiamo vedere questa evidente sproporzione cioè abbiamo questo frontale che è molto alto e molto dritto e poi con questo parabrezza estremamente inclinato quindi che crea proprio uno squilibrio generale possiamo anche vedere ovviamente la panda originale essendo una macchina degli anni 80 ha delle superfici vetrate molto più importanti ma anche qui al tempo stesso creano un equilibrio generale e invece su questa nuova panda come si fa oggi le superfici vetrate sono molto più più ridotte con una linea di cintura di della cassa molto molto più più grande ma anche qui tutto ciò secondo me molto sproporzionato non crea non crea un insieme armonico e gradevole all'occhio e tra l'altro questa parabrezza così inclinato non è molto arrotondata anche questa parte qui e poi la cintura della cassa risale è inclinata questa cosa fa pugni veramente con questo posteriore invece è molto molto angoloso e molto rettangolare che avevo già detto invece mi sembra abbastanza coerente nel suo insieme insomma e volevo approfittarne per parlare anche della Peugeot 3008 fra quella nuova e quella vecchia quindi anche qui l'ho sovrapposto e qui ho tenuto conto delle dimensioni reali la nuova è una decina di centimetri più lunga di quella vecchia e qui possiamo vedere quella vecchia effettivamente era abbastanza proporzionata con questo posteriore che risale però poi ridiscende con questo tetto leggermente inclinato ma non troppo poi qui c'erano dei giochi di design perché c'è questa linea che è più inclinata di quanto lo è veramente l'unotto questo davanti ovviamente è un po' alto è un davanti di SUV però anche qui insomma è un po' inclinato un po' affusulato ma non troppo e quindi diciamo che l'insieme è abbastanza equilibrato e invece vediamo su questa nuova come hanno voluto esagerare l'inclinazione dell'unotto parecchio per dargli proprio questa silhouette di coupé il problema è che il resto abbiamo un posteriore che è ancora più alto e perfettamente dritto praticamente è la stregua del frontale e quindi abbiamo questa cosa molto strana di avere praticamente se noi eliminiamo la cintura della scocca abbiamo praticamente una parte alta della macchina che sembra il profilo di un coupé effettivamente solo che è praticamente appoggiato sopra un parallelepipedo perfettamente squadrato e quindi da questo effetto molto brutto quindi di questo parallelepipedo molto alto e squadrato sul quale si è appoggiato una linea di una berlina coupé molto ecco 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 secondo me perché poi con questo lunotto eccessivamente inclinato rispetto a questo posteriore eccessivamente alto e dritto da proprio secondo me una sproporzione quindi una sgradevolezza all'occhio molto molto evidente ecco sempre da confrontare invece a quello di prima che nel suo essere meno estremo ma molto più equilibrato davano in linea d'insieme molto più azzecchiata ciao a tutti e a presto